Il Comune vince la causa contro il giornalista e masmedeologo Klaus Davi, condannato per aver diffamato il Sindaco e l'amministrazione comunale di Buccinasco. Il masmedeologo, per decisione del giudice Mattia Fiorentini, dovrà pagare 1.500 euro con pena sospesa e un risarcimento di altri 10.000 come danno alla parte civile. Il Comune di Buccinasco, dichiara il Sindaco, Rino Pruiti, è impegnato nella difesa della legalità su ogni fronte. Le regole devono valere per tutti, come era prevedibile. Insultare e diffamare uno dei comuni che ha fatto della lotta alle mafie è una chiara missione. È un reato. Useremo i soldi per le prossime iniziative della rassegna Buccinasco contro le mafie. Lo stesso Davi, aggiunge il primo cittadino di Buccinasco, anche all'indomani dell'omicidio salvaggio, ha continuato a diffamare il Sindaco e il Comune di Buccinasco accusandoci pubblicamente di non aver fatto nulla per denunciare e prevenire la mafia, dimostrando ancora una volta di non conoscere l'impegno concreto del nostro Comune che da anni tiene alta l'attenzione sulla lotta alla criminalità organizzata, segnala, denuncia e organizza iniziative di educazione alla legalità. Non escludiamo ulteriori querele. Grazie.